Ilari Blasi non concederà alcuna intervista esclusiva per parlare del suo divorzio da Totti. Ma cosa è successo? I dettagli all'interno Ilari Blasi è corteggiatissima da tutte le reti, molti siti avevano dato per certa una sua intervista esclusiva per parlare del divorzio dal marito Francesco Totti, ma sembra proprio che la conduttrice romana non prenderà parte a nessuna trasmissione. Ilari vuole allontanarsi dalla televisione, almeno fino a che non ripartirà l'isola dei famosi 2023. Leggi anche, Totti e Noemi Bocchi insieme a casa di lei, nuove foto di chi, l'amore continua, Ilari Blasi non parlerà di Francesco Totti in tv da Gospia aveva lanciato l'indiscrezione sull'intervista esclusiva di Ilari Blasi sul divorzio da Francesco Totti, a quanto pare, quindi, niente di tutto questo è vero, la conduttrice romana vuole rimanere nell'ombra, comprensibilmente. Né Silvia Toffanin, né Francesca Fagnani avranno quindi la possibilità di indagare sulla vita privata della loro collega Ilari Blasi. Proprio nei loro salotti, la ex moglie di Francesco Totti aveva totalmente smentito le voci sulla sua crisi matrimoniale, le stesse che poi a distanza di mesi si sono rivelate purtroppo vere. La decisione di allontanarsi dai salotti televisivi Ilari Blasi non parlerà ulteriormente di Francesco Totti in televisione, forse scottata da quanto successa negli studi di Verissimo e Belve. A rivelare l'indiscrezione ci ha pensato The People Gossip, la conduttrice sarà lontana dal piccolo schermo per almeno un intero anno, fino a che non ricomincerà la sua isola dei famosi 2023. Ilari quindi ha deciso volutamente di prendersi una lunga pausa dalla tv, e come darle torto? Ecco cosa leggiamo sul portale, seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.